Musica Avvicinare cittadini e professionisti, parlare il linguaggio dei giovani sui loro stessi canali. Questa è la comunicazione digitale dell'azienda USL di Ferrara. Format di approfondimento su Facebook, canale LinkedIn, TikTok e Instagram, sito web costantemente aggiornato e contenuti potenziati su YouTube. Una volta che il contagio è diminuito dovremo avere la capacità per mantenerlo basso. Vacciniamoci per non dover più rinunciare a studiare e crescere insieme. Vacciniamoci. 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 Metterci la faccia e raccontare storie. Coinvolgere il territorio per un obiettivo comune, la salute. Informazioni e notizie a portata di smartphone. Per conoscere la sanità ferrarese in un click. Grazie a tutti. Grazie a tutti.